Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online come vedete oggi sono in una camicia ed è una camicia un po' larga a dire il vero volevo ringraziare tantissimo Allegra e Giada che all'evento che abbiamo fatto a Roma settimana scorsa una settimana e mezzo fa mi hanno regalato questa camicia e cosa ha di particolare? oltre ad essere una taglia mezza in più a quella che porto è una L questa, io non so una L mi va larghissima c'è scritto qui se zoomate Surreal Power cioè grazie mille mi hanno fatto una camicia dedicata per la serie di GTA e io sono felicissimo che vi stia piacendo così tanto questa serie davvero grazie 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 mille l'avendo usata con una giacca così sembrava meno larga ma poi non si leggeva la scritta facciamola leggere comunque usciamo dall'appartamento senza prendere nessuna macchina perché voglio andare un attimino a nel mio ufficio perché ho la camicia del Surreal Power ovviamente devo andare nel mio ufficio quest'oggi è domenica in teoria e io dovrei essere a Los Angeles se tutto è andato per il verso giusto e visto che sono a Los Angeles se voglio fare un piccolo tour delle cose che vi porterò nei vlog se riesco poi non so cosa che faremo di preciso insomma voglio andare nel mio ufficio questa è la prima cosa ma quanta gente c'è quest'oggi di solito non è mai così tanto pieno di gente vicino agli uffici vicino alle cose va bene entriamo nel nostro ufficio e andiamo a vedere un po' che cosa succede voglio entrare al mio ufficio per chiamare la mia assistente perché la mia assistente mi aiuta in molte cose ad esempio in teoria dove riuscire a prendere il mio bellissimo elicottero che abbiamo preso nello scorso episodio e a farci delle cose intanto diventiamo dei CEO altrimenti non posso fare davvero nulla parliamo con la nostra assistente ciao assistente allora Pegasus Concierge e io avrei il Frogger che me lo porto il Frogger? voglio richiedere un Frogger mi costa ogni volta 200 dollari però mamma mia eh atterrà tra poco sull'heliporto guarda qui guarda qui in mezzo secondo sono sopra il mio Frogger ma perchè è cambiato colore? ma era rosso una volta boh non lo so comunque giriamoci e andiamo un attimo a fare delle cose per andare avanti io devo usare questo tasto qui allora le cose più belle che trovi a Los Angeles sono vabbè Santa Monica Pyre cioè famosissimo chi è che non sa cos'è è bello ci siamo già stati due anni di seguito questo è il terzo anno in realtà che andiamo e il primo anno abbiamo fatto addirittura anche le montagne russe che sono queste qui vola 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 eh stavo per schiantarmi pure la ruota panoramica no la ruota panoramica non l'abbiamo fatta anche perchè non è che sia chissà quanto utile e qui è bello in GTA farci tipo le 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 scorrabandi con la polizia che tu ti metti sul molo e la polizia può arrival solo con l´elicottero con la barca o con le o con le o con le macchine dalle macchine va da più forza da una strada con l´elicottero vai bene li ammazzi con lanciarazzi e poi sei a posto anche la spiaggia molto bella io vi invito a seguirmi su Instagram vedete tante foto da Los Angeles adesso spero ultimamente ne sto mettendo davvero oh perchè c'è qualcuno qua con l'elicottero ma che sei amico mio o sei cattivo un giocatore o un lpc un lpc ok io lo metto moltissime foto su Instagram ne metterò una al giorno forse ma anche meno di solito però quando vado in qualche posto particolare c'è qui mettere il più possibile poi mi porto dietro anche la mia videocamera quindi lasciate stare protegge i bersagli dell'organizzazione ma cosa sta succedendo qui qua dove ci sono i grattacieli invece è downtown che boh te la godi solo se vai su qualche tipo rooftop a fare gli eventi l'anno scorso siamo andati sul rooftop che ci ha invitato youtube ad una festa è stato carino però a me niente di che poi per il resto si invece qualche point o che cosa figa eh Los Angeles però quest'anno dobbiamo andare anche in un'altra città che non abbiamo mai mai visto prima cosa è Los Angeles ora però andiamo a fare un lavoro molto onesto quello del neturbino esatto siamo qui dobbiamo fucile d'assalto compro tutte le munizioni perchè posso anche il subotto antiproiettile dobbiamo prendere un camion e andare a prendere le cose cose invita giocatori ragazzi tra l'altro sono arrivato finalmente al punto in cui non sono l'ultimo dei livelli guardate c'è sono secondo sono al 35 c'è questo qua che al 31 gioca con il joypad addirittura cosa vuoi fare e dai facciamo gli operatori i raccoglitori facciamo gli operatori completo con la magliettina che fa caldo in sti giorni veicolo ma prendiamo la lamborghini andiamo a fare il neturbino con la lamborghini dai siamo ragazzi siamo pronti io devo slacciare assolutamente la camicia perché fa troppo caldo per una camicia andiamo ragazzi surreal power col camion bisogna recuperare un camion dalla spazzatura che bella quella macchina vabbè io prendo la mia lamborghini ah subito lui eh in realtà mi pare di averlo detto nello scorso episodio ho cercato di fare un episodio in cui facevo delle missioni però oh era tipo la rapina ai laboratori humane e porca vacca oh morivamo e basta sono stato 40 minuti buoni a morire e basta dalla prima missione che bisognava tipo prendere i codici ho detto no no qua bisogna farlo per forza da qualcuno con cui ti senti su TS invece questa squadra qui dobbiamo raccogliere dell'immondizia se non ho capito male cioè in realtà mi sa che dentro la spazzatura c'è altro mi sembra di capire anche dalla chiamata che non lo sto ascoltando però l'importante è che bisogna raccogliere l'immondizia con un camion dell'immondizia e direi che ci può stare siamo i primi tra l'altro io e il mio amichetto che stiamo raggiungendo il camion della spazzatura gli altri ci seguono la ruota abbiamo zero ok ammazza i tipi della sicurezza vuoi morire un po' ok prendiamo il camion saliamo sul trash master daje ci siamo salite da dietro voi mamma raga col camion dell'immondizia e daje andiamo a prendere la roba porta i raccoglitori a forum drive tipo il forum di Asago qua a Milano è la stessa roba guarda che belli quelli messi dietro aspetta come era R no non era R era T no questa era chat vabbè raga alla fine la storia è sempre la stessa devo spacciare la droga usando l'immondizia cioè dai su un po' di velocità capito che questa cosa è lenta però ok ci siamo qui ci sono i raccoglitori mi sa proteggi i raccoglitori mentre recupera recupera una spazzatura ok quindi c'è il tipo che deve andare a prendere la roba e mi ha detto di proteggerlo i turbini del Vagos faranno presto il loro giro quindi io devo prepararmi a sparare oh guarda che bello che corre quella è troppo bella sta missione troppo bella noi dobbiamo stare attento agli turbini dei Vagos perchè questi arrivano raga ci fanno culo eh sono pronti? sono pronti raga andiamo dai sali frate sali un po' ok ci siamo ci siamo ora sto guidando io 400 metri siamo arrivati alla seconda destinazione l'immondizia sarà tutta nostra vi dico tutta nostra è derapata derapata col camion dell'immondizia troppo bello qua c'è perchè c'è il coso dei pompieri dai lasciamo stare ciao permesso ci siamo non ci sono ancora Vagos eppure il tipo ci sta nervosendo mi sa che tra poco arriverà gente oh oh sento gente in moto speriamo che compaiono le cose rosse quando arrivano i nemici ok le due buste ci sono siate pronti ad andare raga eccoli ci sono ok uno è morto aspetta ho sfrattato i tipi sbagliati mi sa ok bisogna stare attenti a non morire ragazzi uno è morto quello è morto attenti attenti vi dico no dai sei morto visto? si muore in continuazione queste cose devi farlo solo con gente che sa giocare ma non voglio dire che loro non sanno giocare cioè devi giocare con gente con cui giochi di solito eh non so spiegarmi perchè non perchè non c'abbiamo la lamborghini ah è in culo la lamborghini aspetta mi aspetta mi aspetta mi aspetta mi aspetta dimmi te se bisogna rifare la missione da zero ciao amico ma che cambio dell'immondizia è? in pelle addirittura si trattano bene questi qui di Vagos eh dai lancia la spazzatura dentro bravo dai che partiamo no dai non farti investire già abbiamo solo una vita ok ragazzi dobbiamo stare pronti stanno per arrivare i tipi difendiamoci oh che vuoi dai allora mettiamo un po' di gente a caso eh che dite? eccoli i Vagos morite un po' ci sono anche di là andiamo anche di là mazziamo i Vagos mazzali dove sono? non li vedo più sono di là sono di là quanti sono sti Vagos? ok uno è lì lì oh merda è dietro? no dai chi è morto stavolta? basta oh è l'ultima volta eh se non ce l'ha fatta e ora va mazzo anzi lascio la partita direttamente dai mi sono venuto proprio vicino per mettere dentro la roba dai su oh mamma mia che ansia vedi la spazzatura mamma mia oh dai e dai vediamo ora chi è che ce la fa o non ce la fa eh piglia una busta che noi ci divertiamo ti sparo ti sparo ne ho ucciso uno no dai dai chi è morto? chi è morto? ti odio capito va le missioni forse dovremmo evitarle un po' eeeh raga non so come son finito in questa situazione ma non so come uscirne ecco la ho perso la lambo morta ma ancora no e invece si lambo morta mannaggia oh my god una lamborghini eh mannaggia è colpa tua dammi la tua macchina ok prendo la prossima dammi la tua macchina oh qualcuno mi darà pure la macchina eh metto qui vediamo se mi investi oh non ce la faccio proprio ok c'era una parcheggiata là non l'avevo vista cacchio veloce prima che arrivi la polizia ah anche questa è una cosa un posto in cui siamo stati rodeo boulevard si chiama mi sa o rodeo road insomma cosa del genere corriamo nell'ufficio prima che arrivi la polizia così perdiamo la stellina purtroppo sto perdendo soldi perchè da un bot che non faccio una consegna peccato ragazzi io direi che 200 dollari ce li possiamo permettere prendiamo il frogger e andiamo ad atterrare dove c'è la nostra motor club house perchè voglio andare a vedere se come nel nel pack dei ceo e tutto quanto mi da anche diciamo dei vantaggi consegnare la merce venderla e tutto quanto nel senso voglio vedere se mi dai soldi se me li metti lì nella nella roba voglio vedere sono curioso quindi atterriamo qui sulla strada rallenta 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 ok forse qui non posso atterrare tiriamo i mesi all'incrocio piano piano no no ecca laura esplode come minimo ok sto tracciando una palma ma non sembra essere un problema orca vacca esploso ha perso l'elica no ha perso l'elica no dai allora dai entriamo qua dentro lo so che in teoria sarei il CEO quindi cioè non so se mi fa fare roba sono il CEO della mia della surreal power non di surreal club magari cambia da solo siamo qui ah si vedi che ci sono i soldi per terra pure le panette di coca giusto giusto mi sembra giusto però è un po' vuota eh questa clubhouse non c'è nessuno lì c'è il mio computerino ma non mi interessa qua c'è il garage ma non mi interessa che non ho molte moto ne ho due si ma le tengo vicino all'ufficio si diciamo comunque che è un po' povera come roba eh avevo fatto 3 o 4 consegne finora ci sono pochissimi dollari di qua dove si va? ah c'è la riunioni visto anche qui c'è poca roba surreal club ragazzo punto fatemi anche la giochetta di pelle ho scritto surreal club davvero motociclista comunque con questa musica degli anni 80 bellissima io dico che per questo video è tutto è incredibile come non siamo riusciti a consegnare della spazzatura cioè la gente c'è la gente moriva in continuazione sempre lo stesso poi moriva sempre quello lì ops hobby qualcosa io non ho parole ragazzi per questo video è tutto mi chiesto tantissimo per l'usione di riconoscere mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto subito su Twitter, Instagram, Facebook ovunque voi vi vogliate io vi saluto ciao a tutti a tutti ciao a tutti